Avevamo autorizzato società autostrade con le varie ditte a fare dei lavori fino al 30 di aprile per sistemare le barriere fonoassorbenti che fungono anche in alcune situazioni da barriere di sicurezza nel tratto che appunto va dalla caserma dei vigili del fuoco fino al belgatto e quindi direzione centro verso la periferia. I lavori sono fatti dalla società autostrade su una strada che ancora non ci è stata formalmente consegnata purtroppo c'è stato un problema con la ditta specializzata che appunto si occupa del montaggio di queste strutture perché la squadra che se ne occupava che era a Fano da qualche tempo nell'ultima settimana è stata in quarantena anzi nelle ultime due settimane è stata in quarantena ci hanno chiesto una proroga che noi ovviamente non potevamo fare altro che concedere però abbiamo chiesto di chiudere i lavori entro la prossima settimana. Mi dispiace anche per il disagio creato tante persone, tante auto, tanti concittadini che utilizzavano questa strada e a dimostrazione anche del fatto che questa strada è utilissima per la città come abbiamo sempre detto per cui chiediamo un'altra settimana di pazienza per colpe non nostre ma che comunque crediamo che in una settimana d'accordo con la società autostrade questi lavori potranno finalmente concludersi e riportare questa strada nella piena funzionalità. La consegna della strada poi formalmente al comune di Fano per tutto quello che ne consegue dovrebbe avvenire nel prossimo mese di giugno.